che ci trovi a campare questo coronavirus ci trovi a stare in casa io scappavo anche da stare in casa a giocare a miliardo e la mamma e poi pensa si poteva essere a lanciare in mezzo all'arrivo ma vuoi che ti piondi quando giocare a lanciare a parte i giorni contro la tua mamma vabbè questa è la leccata quando sei vinto il campionato naturalmente a te invece cosa ti ricordi beh il campionato l'ho vinto anch'io eh di prima categoria però non è la stessa cosa però è giusto ho vinto un campionato anche te ma l'ultima giornata è stata bella dopo in un minuto no io ho fatto anche il giro dei campionati e poi a festeggiare in 15 sulla mia macchina della portata in mezzo per i corsi continuiamo questa parte della tua stai in casa su vabbè e a quando è in casa se non c'è un biglietto giocare la playstation qualcosa da fare poi mi fido la pigliardo guarda che maglia c'ho sotto quella del lanciano e il cappellino della filettina ciao